Siamo con Fabrizio Leonardi, amministratore delegato e vice direttore Cias. Molte le novità in Cias, da dove partiamo? Beh, possiamo dire che finalmente si riparte, nel senso che dopo un anno o più di blocco totale, oggi si può ricominciare a parlare di organizzazione degli eventi. In realtà già da mesi avevamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, avevamo iniziato a vedere un po' più lontano, quindi iniziato a prenotare e bloccare determinati spazi in determinati eventi. Il primo che avremo sarà Sea Future, alla Spezia, che sarà a cavallo tra settembre e ottobre, per noi la prima volta in un evento dedicato a un mercato totalmente verticale, che è organizzato in collaborazione con la Marina Militare e con uno sponsor strategico di tutto rispetto, perché sarà fin in cantieri. Poi, subito dopo, avremo Sicurezza a Milano, sempre novembre, e infine, nel senso l'inizio dell'anno successivo, quindi a gennaio del 2022, inizieremo con Intersec a Dubai. Quindi tantissime novità, una voglia enorme di riprendere a viaggiare in libertà, di incontrare persone, di poter fare dialoghi, mostrare i nostri prodotti, apparecchiature, tutte le novità che abbiamo in cantiere e che in quest'anno di rallentamenti abbiamo potuto portare avanti con ancora più grinta. Protagonisti, quindi, a Sicurezza. Con quali novità, se ci può anticipare qualcosa? Allora, Sicurezza sicuramente è una... è la fiera che noi stavamo aspettando più di tutte, intanzitutto perché è il nostro evento domestico, quindi giochiamo in casa. Sarà sicuramente una fiera meno affollata del solito, ma questo non sarà un problema, nel senso che avremo sicuramente più tempo a disposizione da dedicare ai nostri visitatori. Stiamo infatti pensando a gestire delle attività più coinvolgenti per il visitatore, rispetto al passato, dove magari per il numero incessante di visitatori dello stand non si poteva dedicare più di tanto tempo, oggi avremo a disposizione tempo e il tempo vuol dire qualità. Avremo sicuramente da mostrare novità di prodotto, porteremo delle novità sul prodotto micro-ray, che è in forte crescita, nonostante il lancio sia stato verso la fine del 2019, con un anno terribili come 2020, è stato uno dei prodotti più venduti in tutto l'anno, quindi avremo sicuramente novità su quel prodotto. Avremo nuovi prodotti a livello perimetrale e sicuramente la farà da padrone l'integrazione tra la nostra sensoristica digitale con il mondo video e della videoanalisi. Quindi non dico di più, non voglio svelare altro, perché vi aspettiamo tutti a sicurezza. Benissimo, quindi allora arrivederci a sicurezza. Arrivederci, ci vediamo là.